Come vincerà quest'anno lo scudetto? Credo l'Inter ha questa sensazione più canetta. Di Bala, quale sarà il suo futuro? Secondo me è all'estero, stupirà tutti, non restare in Italia ma andrà all'estero. E dopo il turno di stasera, la classifica, come andrà? Cambierà? Secondo me no, perché sia Inter che Milan vinceranno. Milan 3-0, dato anche prima il pronostico, e l'Inter 2-1, quindi giocava.